il segreto del signore è rivelato a quelli che lo temono egli fa loro conoscere il suo patto salmo 25 verso 14 dio ha un piano per te il signore non rivela i propri segreti ai suoi nemici infatti l'uomo che persiste nel peccato non conoscerà mai la volontà di dio potrà sembrare un linguaggio difficile da capire ma in realtà il verso biblico alla luce delle scritture è molto semplice nei vangeli molti dei discorsi fatti da gesù risultavano incomprensibili per chi non credeva in lui egli però spiegava in privato ogni mistero ai suoi discepoli leggiamo io non mi chiamo più servi ma amici in un altro episodio biblico dio rivelò ad abramo quello che avrebbe fatto il signore disse dovrei forse nascondere ad abramo quanto sto per fare chiunque dunque si arrende al signore e alla sua volontà realizza la sua benedizione e non solo la sua guida la sua protezione dio manifesta la sua disponibilità nei confronti dei credenti rendendoli partecipi dei suoi piani perciò ti consigliamo affida la tua vita al signore confida in lui con tutto il tuo cuore ed egli si prenderà cura di te rivelando il suo piano per la tua vita